Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci ancora nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Noi ho Valerio Demma, che ci aiuterà in una canzone bellissima di Fedez prima di ogni cosa, dopo la sigla. Bene ragazzi, la prima parte di questa canzone vede cinque accordi che sono Fa maggiore, quindi questo è il Do, Do, Re, Mi, Fa. Fa, La, Do, forma il Fa maggiore, poi ci sarà il La minore, andando avanti Sol, La, La, Do, Mi, La minore, poi il Re minore, sappiamo che questo è il Do. Re, Fa, La, forma il Re minore, poi ci sarà il Sol minore, quindi Do, Si, La, Sol, Sol, Si bemolle, Re, forma il Sol minore, ed infine il Do maggiore, che ormai conosciamo bene. Do, Mi, Sol, forma il Do maggiore. E la canzone fa così. E la prima parte fa questi accordi qua, ricordiamoci che il Fa dura una battuta, il La minore anche, mentre gli altri accordi avranno due battute per ogni accordo. Poi andando avanti, troveremo un accordo nuovo, che è il Si bemolle, quindi se questo è Do, Si, Si bemolle, Re, Fa, forma il Si bemolle, poi accordi che abbiamo già visto, che sono Fa maggiore, Re minore, e Do, e fa così. Perché in testa c'ho l'analisi, perché non sono mai a casa, il cuore è consumato come delle vecchie vani. E poi lo ripete. Andando avanti c'è il ritornello e troveremo sempre gli stessi accordi, ed è così. Il primo bacio, il primo giorno a scuola, il primo giorno in prova, il primo amore, il primo errore, il primo sole che ti scotta, ed è la prima volta anche per me che vedo te, prima di ogni cosa, prima di ogni cosa. Ebbene qua vediamo che c'è un accordo nuovo, che è il La maggiore. Se questo è Do, Si, La, La, Do diesis, Mi, forma il La maggiore. Quindi prima di ogni cosa, l'ho preso appunto, e poi comunque continua e metterà sempre e comunque gli stessi accordi. Anche la parte rap, che a un certo punto c'è in mezzo a questa canzone, fa sempre gli accordi Fa maggiore, Do maggiore, Si bemolle, che abbiamo già visto, e fa così. Un cinto spitato, che non si è adattato, che non si è adattato, che non si è adattato, ciò che la vita gli ha dato. Poi si è adattato, e tutto si è fermato, vuole insegnarti tutto quello che non è imparato. Come avete visto, fa una volta Fa, una volta Do, e due volte Si bemolle. Poi troverete tutti gli accordi sul testo, e la canzone va avanti, più o meno sempre allo stesso modo. Bene, anche questa era una canzone abbastanza semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio Valerio. Grazie a te. Per averci dato una mano in questa canzone. Vi lascio in descrizione un link su dove trovare il testo con gli accordi di questa canzone, la diteggiatura per le mani, entrambe le mani, e alcuni link su dove trovare proprio delle puntate dedicate a come imparare gli accordi sul pianoforte. Che dire, lasciate il like, lasciate il like, subscribe, alla prossima. Alla prossima, ciao. Ciao. Ciao.